Lo stile e l'eleganza delle forme, la qualità dei materiali, la cura delle realizzazioni e la garanzia della nostra professionalità. Tognin Arredamenti è la scelta giusta per la tua casa. Vieni a visitare il nostro showroom, potrai toccare con mano le ultime novità e approfittare delle offerte più vantaggiose. Ci trovi sulla Statale 16 a Boara Pisani, Padova, ad un chilometro dall'uscita autostradale, direzione Rovigo. Tognin Arredamenti, la casa che hai sempre sognato, ora a portata di mano.